La sua vita è normale Ma ho un capito bene, per il tamico no! Ehi, fai! Non sbaglio, 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 non sbaglio. E' un'altra cosa che volete sapere che ci siamo, inizio io le presentazioni, piacere è solo la ora, anche se di suo genero, deve venire qui e lo sto aspettando. Piacere, mi son donna Fonza, l'inguilico del primo piano. Donna Fonza, poi mi riconosci come mi presento da Fonza. No, e sto bene con le linee un mo' poco grosso. Donna Fonza, vi ricordate l'appuntamento? Son donna Fonza, vi ricordate l'appuntamento. Donna Fonza, non sono ancora diventato scemo. Mi maravisco che non ha ancora visto l'impecillito. Donna Fonza, a me non l'avete dato, ma diciamo che me lo sono preso da sopra. Che cosa avete preso? Il cocco da sopra all'albero. Donna Fonza, e che c'è un cocco da sopra all'albero? Allora, guarda Fonza, lasciami il cocco dove sta, piuttosto. Mi posso offrire il cocco? Abbiamo già continuato, grazie. La signora Flora è stata addensivissima. E Donna Fonza, la signora Assunta voleva il peo da un'banana, ma è finito. Donna Fonza, e adesso che vogliamo fare? Ma non si piove, poi si riprende Flora, la mando subito e preparo una bottiglia di te alla banana. Va bene? Banana? Ma io la banana non lo voglio. Olito un cocco! Dio, perché non lo voglio calde? Ma che ne... Grazie a tutti.